Amo, sei tornato, che hai fatto? Quarazzia, di nisi? Ma scelto, poco sono andato dal Campagnolo Poi sono andato in farmacia Dottoressa mi serve un magnoschiuma di quello buono Dice questo qua, liscia, guardi, sensi drana Ci dissi però lo devo provare, come lo deve provare? C'è stata melodia, noi ci conosciamo Io lo provo, se la mia pelle diventa bellutata Se non diventa bellutata, poi non me lo posso vendere più C'è una bella pelle La vecchia, com'è? La dottoressa da farmacia Ehi, vabbè, sì, ma la cosa è che io mi sono svegliato con questi vassoi, ma niente Non me le fatti aprire, che c'è? Non li apro io adesso Ma per chi sono per me? Allora, tu ingrassi Ha scelto, io ingrasso Mi vengono Ma sono quelle di Soare? Ah, ci viene una Clarissa? Vediamo che cosa Ma la Clarissa è senza rendre, come così morbide Certo Ma che è? Pistacchi No, pasta di mamma Questo è su Rame di Napoli Rame di Napoli e ripiene Pistacchi e cioccolato Quelli sono vecchi facetti Chi è la Clarissa si può mangiare, come perché là? sono morbide, è morbida senza redditi, è sgangulata questi che sono? ah i zuggi, ma sono duri è accolcironi, fanno pagnati indolatti e non lo so se ce li vengono a qualcun altro vediamo un po' che c'è qua, ma hai ordinato altro da suave ma che è? quelli con i fichi dentro, spettacolo ma è di pane? si pane, pane amore e fantasia ma che è biscotto? io non mi piace una mosti così io mangio qualche rama di Napoli io vendo non le posso mangiare quelle rame di Napoli? una, mezza va bene mezza, quale vi prendo ragazzi? ma chissà, pacacchi e ceci no no, questi sono altri biscotti va bene, ma hai ordinato altro da suave? no, per ora no, poi ci torno io domani Mario già avvisamo a Giuseppe che poi ci torna vabbè Giuseppe poi tornamo certo, no vabbè ragazzi io mi mangio qua mezza rama perché mezza mi ha toccato certo, a dopo no vabbè ciao ciao